5, 4, 3, 2, 1, vai! 150 a ritardo a destra 2, in sinistra 3, apre! 200 a destra 5, in posta subito, sciccando e stai a sinistra! 200! Sinistra 3, meno! In destra 4! 200! Destra 3, attenzione scivola! 150! Destra 3, più! 200! 300! Sciccando e stai a sinistra! Stacca! 300! 300! 300! 300! In destra 4, scivola! 300! 3, meno! In destra 4, scivola! Sciccando e stai a destra! Sciccando e stai a destra! 400! Sciccando e stai a destra! 400! Destra 3, posta subito, sciccando e stai a sinistra! 200 destri Inversione sinistra In inversione destra 200, sei a sinistra Scican doppia 500 Ritardo a destra 2 In sinistra 3 apre 200 200 Destra 5 Imposta subito Scican e sai a sinistra Scican e sai a sinistra 200 Sinistra 3 meno In destra 4 Sinistra 3 meno In destra 4 200 200 Destra 3 scivola Destra 3 scivola 150 Destra 3 più 200 Scican e sai a sinistra 300 300 300 Sinistra 4 meno In scivola destra 4 4 In sinistra 4 più 4 più 300 Scican e sai a sinistra 400 300 300 Destra 3 in posta Subito Scican e sai a sinistra 300 Stai a sinistra 300 1 1 2 2 2 3 Grazie.